Odio la cioccolata! E allora non la mangi! E' il prossimo! Scusate i confronti di questo maledetto scioccolato! Oh, quell'accidente di Murray, ma dove diavolo è figo? Sta picchiettando il negozio con il resto del personale! Il piccolo Murray si caccerà nei guai quel ragazzo! Vado fuori a dirgli due parole, continua pure tu, Cristian! Ehi tu! Ma c***o!